Interrogazione parlamentare a risposta scritta dell'Onorevole Franco Mari sul nuovo tracciato per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Riprendendo le osservazioni dell'Associazione Codici, secondo cui il progetto proposto da RFI sarebbe in contrasto con la normativa europea sullo sviluppo delle reti transeuropee sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, l'Onorevole Mari chiede di sapere quali iniziative il Ministro ai Trasporti intende attuare per il rispetto di ben tre regolamenti europei. Nella lunga e articolata interrogazione si mettono in evidenza la maggiore sismicità dei territori attraversati dalla nuova linea Battipaglia-Romagnano-Praia, l'insufficienza dei finanziamenti per realizzare l'intera opera, il contrasto con il piano regionale della Campania che non prevede l'attraversamento a ridosso del centro urbano di Eboli, la necessità di sviluppare la linea tirrenica meridionale per favorire i collegamenti con i porti e costruire il trasporto intermodale treno-navi. Per evitare che il nuovo progetto per l'alta velocità rimanga una cattedrale nel deserto, scrive il deputato al Ministro, chiedo di sapere cosa intende fare per potenziare la linea ferroviaria esistente e non realizzarne una diversa e per tutelare gli interessi di cittadini e imprenditori della fascia tirrenica. Codici attende la risposta del Ministro e intanto il segretario della Campania Giuseppe Ambrosio avvisa se la giustizia amministrativa e il Governo non dovessero mettere fine a questo progetto che disattende in modo spudorato norme comunitarie e nazionali a tutela dei consumatori e dell'ambiente, sarà inevitabile uno strascico giudiziario per vedere tutelato e risarcito attraverso Classation il diritto di accesso al corridoio ferroviario trans-europeo-scandinavo-mediterraneo per i cittadini della costa tirrenica, nonché il diritto all'abitazione e alla solubrità dell'ambiente per i cittadini della Piana del Sele. Grazie.